ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso e facilissimo motivo motivo punto conchiglia trafolato ai ferri è un motivo che si presenta da entrambi i lati nello stesso identico modo perciò è un motivo che potete andare applicare veramente per i diversi progetti diciamo che è molto adatto per i progetti primavera estate come ad esempio delle goneline dei ponci coprispalle canote copricostume è un motivo che veramente molto bello e molto semplice da fare ora infatti andiamo insieme a vedere come realizzarlo il nostro motivo è un multiplo di 10 maglie e di 4 ferri quindi per realizzare ogni conchiglia abbiamo bisogno di 10 maglie e 4 ferri perciò ora andiamo a avviare per il nostro campioncino 22 mali di cui 20 saranno dedicate al motivo e 2 mali sono le mali di vivagno partiamo con il primo ferro del nostro motivo la nostra maglia di vivagno noi la spostiamo senza lavorare e ora prendiamo le nostre 10 mali che sono dedicate al motivo le 10 mali le dividiamo in due perché andiamo lavorare la prima parte i primi cinque mali con la lavorazione a diritto normale 1 2 3 4 e 5 prima parte le abbiamo lavorato a diritto normale la seconda parte delle mali dedicate al motivo andiamo lavorare dando la base delle maglie lunghe quindi andiamo entrare nell'asola della maglia e andiamo ricavare da una due nello stesso in questo modo quindi entriamo due volte nell'asola e ricaviamo due maglie stiamo dando la base per le maglie lunghe e così facciamo per tutte le cinque maglie rimanenti del motivo la prima entriamo anche nella seconda andiamo ricavare una stessa cosa ne andiamo ricavare sempre due male nella quarta 1 2 nella quinta 1 e 2 ed ecco che abbiamo lavorato le nostre 10 mali dedicate al motivo e le abbiamo lavorati a diritto però una prima parte le abbiamo lavorate a diritto normale la seconda abbiamo dato la base per le mali lunghe mettiamo il nostro marco punto per sapere dove finisce il primo motivo ora procediamo nello stesso identico modo anche per le successive maglie sempre tenendo conto che ogni motivo sono dieci mali di cui cinque vanno lavorate normalmente e cinque vanno lavorate due volte per dare la base delle maglie lunghe vediamo ora il secondo ferro del nostro motivo la nostra maglia di vivagno noi la spostiamo senza lavorare ora parliamo qui subito all'inizio del ferro le nostre cinque maglie doppie quelli che sono dedicata a diventare le maglie lunghe quindi ora noi andiamo creare le maglie lunghe come abbiamo già visto andiamo entriamo nella prima e tiriamo si presentano doppie quindi noi entriamo nella prima agganciamo tiriamo il filo entriamo nella prima agganciamo tiriamo il filo e così si realizzano le cinque maglie lunghe che abbiamo dato la base nel ferro numero uno rispostiamo queste maglie appena ricavate e andiamo a fare una diminuzione però prima di fare una diminuzione dobbiamo andare fare il gettato normale in questo classico modo facciamo uno due gettati subito dopo andiamo a unire le cinque maglie e da cinque ne andiamo a ricavare un'unica maglia a diritto normale ora andiamo a fare altri due gettati in questo modo noi abbiamo nuovamente le nostre cinque maglie fatte con aumenti diminuzione successive cinque maglie dedicate al motivo le andiamo a lavorare a diritto normale così come si presentano maglie normale ed ecco che abbiamo creato la prima conchiglietta si vede già si dà già la forma subito dopo il secondo ferro con questi diminuzioni e aumenti abbiamo fatto il forellino e abbiamo recuperato il numero delle mali abbiamo creato la conchiglietta la stessa cosa si fa anche con il secondo motivo e per tutte le motivi che si avranno nel progetto per il quale si deciderà di andare applicare questo motivo il ferro numero 3 va lavorato tutto a diritto perché dobbiamo fare un stacco tra una conchiglia e l'altra quindi noi la maglia di vivagno la spostiamo le successive maglie le andiamo lavorare a diritto semplice semplice i nostri gettati noi come vedete qui abbiamo i doppi gettati che abbiamo creato la prima noi la andiamo lavorare a diritto normale per appunto sottolineare e creare il forellino la successiva la andiamo lavorare a diritto ritorto in questo modo come viene illustrato per evitare un ulteriore forellino normale vedete la prima va lavorato normale la seconda va fatta a diritto ritorto e così tutto il ferro le mali che si presentano normalmente le andiamo lavorare a diritto normale i nostri gettati la prima della copia va lavorato normalmente la seconda va lavorata a diritto ritorto il quarto ferro del motivo va lavorato tutto a diritto la male di vivagno spostiamo e successive male tutto il ferro lo lavoriamo a diritto ed ecco qua dopo aver fatto anche il nostro quarto ferro possiamo dire che abbiamo visto il blocco del nostro motivo e così dobbiamo andare lavorare per tutta l'altezza e lunghezza del nostro progetto dovremo andare quindi ripetere questi quattro ferri nel primo ferro dovremmo mettere la base nel secondo creare le mali lunghe nel terzo e quarto mantenere creare la distanza tra conchile all'altra unica differenza che dobbiamo andare anche realizzare le nostre conchile con effetto scacchiera quindi ora il nostro quinto ferro noi partiremo direttamente realizzando le mali lunghe quindi terremo conto sempre di 10 mali per il motivo però stavolta andremo prima a creare mali lunghe e dopo lavorare mali normale e così alterniamo per avere l'effetto scacchiera con le conchiglie speriamo che il tutorial sia chiaro e utile grazie che siete rimasti con noi se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altri novità in arrivo vi aspettiamo anche su facebook e su instagram grazie a tutti al prossimo video grazie a tutti